Pensava di farla franca, ma il sistema d'allarme prontamente scattato non gli ha lasciato scampo ed infine è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri. E' accaduto a Foggia, un 21enne pregiudicato ha provato a mettere a segno un furto ai danni dell'attività commerciale ProShop in Via Nardella. Le immagini di videosorveglianza mostrano il giovane avvicinarsi all'ingresso, sollevare la serranda forzando il blocco motore e dopo aver dato una serie di calci alla porta in alluminio entrare all'interno. Una volta dentro, il 21enne ha aperto la cassa portando via qualche decina di euro. Purtroppo per lui l'allarme è subito scattato, una volta forzato l'ingresso, quando è uscito è stato immediatamente colto sul fatto, ma ha tentato comunque la fuga. I carabinieri, grazie alla collaborazione di un istituto di vigilanza, sono riusciti a rintracciarlo. Il 21enne era ancora sudato, aveva le mani sporche e in tasca ancora il bottino. Grazie proprio alle immagini di videosorveglianza, i militari hanno accertato che si trattava dell'autore del furto. Ad incastrarlo, definitivamente, sono stati due tatuaggi sul corpo. Per il giovane pregiudicato è stato disposto l'arresto e successivamente la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. La refurtiva è stata restituita a legittimo proprietario. Grazie. 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 Grazie.